Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video siamo qua nella partitella dai, mettiamo veloce la squadra, va spiegate, il tempo non regge l'avevamo detto già nell'anticipazione di ieri, c'è stato un problema con l'idea del video allora vediamo adesso ma c'è se si dirò là, 4 minuti eh 4 minuti, gestione squadra gestione squadra Gervinio andate via Giorgia sbrigate, sbrigate, sbrigate di aspettare non è un po' di panni mamma mia quando sta scivendo pa, 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 pa pa, pa, pa aspetta devo pesare a dirgio e metto la sigla vai ok allora eccolo qua ecco provate a sbrigare la mia perchè se no ecco ok perfetto perfetto presa porta tattico bra tattico proprio iniziamo questa parte mi piace scrivete i commenti bravo ogni tanto faremo delle domande tipo che è più forte tra Rodalto e Messi ditecelo 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 De Rossi Pianici riviene per Florenzi per De Rossi De Lunga per Florenzi in questo video roma vedeva il risultato in balza chords congelo ora mi si può fare a venasicata ma tu non sei oba lista se la fiare è un insulto iali che non si può palla vallat körnò iali perchè quattro alla istra so fellow quindi io ho 10 oggi per tutte la possibile però si vuole dare degli altri l'uomo sergio cura se tu vuoi avere un bel testo testo stava stessi stava stessi stava stessi stava stessi stava stessi anche sulla pressione brava bellissima pressione su come si chiama dvd in me la sia poi marco sbagliato la ballona bella il pallone e non si sa come la raccoglietta per cui è vero tope santi spade castano benassia molto risposto vabbè balseretti ma io ho già parlato ma i figli per finire perchè chi non funziona non mi cambia non mi ci mette tre ore per cambiare giocatore strutman impressione di strutman a strutman stasera stare in panchina contro csk che il terreno è molto divertoso freddo ghiaccia fa freddo e nei commenti iscriveteci anche chi vincerà secondo me tra domani csk anzi no perchè l'altro già sta iniziando quindi inizia eh sì le sei per come gioco le sei magari per freddo perchè si che se no dopo oddio intanto è di gioco è di gioco nooo 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 con gli altri per tutti non è possibile non si avanza ma guardate saia clinici subito passaggio bello per gioco e di gioco no no vabbè dai che di gioco che di gioco 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 benessi maledetto joystick dov'è da voto dopo andavo da cinesi la copra giudicato ma attivo proprio davanti non so si e non mi frega niente ma vado a coprire joystick perchè potevo fare video con stick joystick perchè non le si blocca non se ma che ma che chi chichino ha cresci si intorno a ridere mi è brutto alto non mi interessa che sei alto balsaretti cercare della macina ma perchè i balsaretti vabbè ci balsaretti a fifa 15 si è rotto non so se abbiamo detto nell'anticipazione già marco lo riportiamo prossimamente non so quando vedete i joystick difettosi ogni volta fa il minimo convivente benassiata sbaglia bravo piani cittotti che vediamo di forrenzi che sci prova a recuperare i compagni forrenzi forrenzi bravissimo è il muro di compagni non era compagni e io mi sono staccato basta ho fatto basta mi sono staccato basta non muo però bello certo io non me la posso muo per colpa di questo joystick cioè non vale il giusto o no benassia guarda ti senti testo joystick un attimo sono un merda sei vergogna sei zitto vergogna di sei zitto lei è alto ma da altra parte no io da stavate ma è vero si sto lesto vai tu mamma va bella palla mia però la voglia salone di video di palla no c'è giù per il gioco si trotto piani sbagliare sbagliare la roma guardate che passaggio vincuola aghero 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 esalti ieri abbiamo le prove superabili non c'è esalti eh vabbè intanto da che si va sul punto di battuta ceco non ci arriva la coppa di roma aperto tc 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 molto veloce molto veloce velocissimo tc 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 ancora tc 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 amore lombardi simone lombardi tc 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 six core.it tc 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 x tc 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 youtube io mi faccio c- c molto veloce bravo rapido si però la rosa sono molto meglio della Manchester City diciamo l'ammettiamo esce Iaici e la partita della sua per eccoci Pim come sta facendo? toccato solo un pallone ci hanno preso mettere la prossima che lui ben bravo Piani fuori giovane il cura Quero Balseretti ci si fa fare ci si fa fare la vicinità bravo De Rossi dai bravo De Rossi bravo De Rossi scusate per quelli con la r moscia Gerviglio scusatelo che azione della Roma Davi Silva Davi Silva Davi Silva Davi Silva Davi Silva ancora De Rossi non è possibile ancora De Rossi per Gerviglio anzi per Florenzi per Pianic Pianic buttami Art bravissimo e la palla ancora è giocabile no no poi diteci le più fatte tra Medi Benatia e Gentiletti nanziali diteci le più fatte tra Medi Benatia e Gentiletti ecco l'altro Lorenzi per Gerviglio Lorenzi per Gerviglio come qui Gerviglio Gerviglio non si passa non si passa è incredibile sopra la porta Gesù Cristo ancora lui sempre lui è l'unico che gioca a Gesù è l'unico che gioca molto meglio è incredibile guarda la Roma sbagliata non c'è se c'è l'occasione io c'è l'occasione di te partire bellissima comunque da una parte dall'altra bellissima ma se non farà anche no passano ma già come si gioca scusate perché sta vedendo il video però chi vede anche il video sa che siamo al quale già si sta dominando oh si 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 salta troppo troppo si salta eccolo stiamo dominando tutte e due si la partire è bellissima Gerviglio fallo oh dai 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 fallo Totti dobbiamo per Gerviglio eh Gerviglio e ancora valla buttata via imperfezione legreto alvare legreto non corre bravo alvare legreto bravo anche se non corri protegge parla bravo no Crici Crici occhiale su azioni veloci ancora niente company troppo lì mamma mia dalle detravie il tiro bene assieme la seconda freccia un buro un ceci no ragazzo bravo maicolo la giocalla maicolo prezzi avvia avanza florenzi avvia florenzi taglio per te totti eccezionale taglio i totti 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 uuuh nooo buona assieme intervento eccezionale totti ruba palla totti totti palla di florenzi totti mazione che fingo che pilla per ti florenzi eh no eh che fingo ooooh 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 cosa pesce per l'azione a guardare che partita non credo no mamma mia 15 anni c cassoni prima e golden 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 si ciao ciao i figli i figli i figli grazie buona buona la partita è bellissima non serve per mai golden 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 allora mi ha fatto una questione a spettacola con florenzi e gervinio bravissima azione zabaletta ancora zabaletta 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 mamma mia la rimette pernazione pernazione ecco che se lo gliel'ha dato numero di florenzi no o alzareti per il numero di bianici spagli bianici diciamo questo inizio solo siti fallo tanto ah no fallo per la roma ma se ti avanti a via valutare 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 te la base a tutti avanza pazzeretti la ferma la cia la cia la cia l'azienda vettura vettura po rott la città direi l'azienda ma città in santa ora la città e il il po l'ascusa la basso la cosa bazzaretti ancora troppo non ci sono troppo troppo forte tu li fai troppo forte troppo forte settaccio al sito troppo forte di rossi lanciano di rossi per totti è possibile ho avuto tutti i dati avanzano ok frenzio ma guarda dio ecco si ti credo che vengono che vengono che vengono che vengono che vengono io ho la terapia oggi l'arte pare di dio art dio stessa cosa di mezzo c'è alcuna differenza oggi tra ma c'è se c'è di l'europa mamma mia alcuna differenza speriamo di andare a ritori perchè già marco non è capace a battere cioè è capace però baglia sempre intanto non so chi è vengono avanti castanna credotti era gering avanti a cd 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 aggero rossi sbagliati e sta anche inizialmente passaggio per necretto ma se ne mette in mano era un grosso e poi un tiro nooo ooo ooo ci alteriamo qua non è possibile voi totti va via totti bravo su company grazie brava prego pa 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 grande passaggio per sergio balseretti per Cervignio la palla rimbalza Gerviglio conosce bene il Manchester City mangiare l'anno scorso giocava l'arseral Gerviglio mangiare 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 giocava sempre solo che non non vedeva la palla non vedeva la porta che cosa si fa domandare ma quando ci si mette Gesù è possibile da da chi non è possibile allora direi lo gabbi con la serie e poi ci ho detto da me tanto lo devo far entrare un po' un po' bene manco temeno come si chiama capitano del city anzi la vice capitana fair play applausi da parte della roma bravo della roma della roma della roma bastagno mamma mia guardiamo io sono romanista e lui è nazionale eh beh però c'è da ammetterlo benassimo è l'opera è l'opera è l'opera non vado nessuno no no non vado nessuno lo so no eh vabbè faccio stretta di mano eh non sono niente no no non l'apri però vieni 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 guardiona vieni le d'oro mi tra le dacore da c l'hanno scegliere e le credo manca sulla parata e poi d'arte sui video chi segna vince pianici mirale speranza ancora aperta sbagliate pianici le le dire le dire scusate per il video scherzo 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 infatti infatti vuoi parlare parata 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 chi segna vince no ieri l'hai fatta e poi non l'ho guardato ti attacchi nei fondelli a non è ancora gervin tutto no la vittoria del tosco l'ultima ricorda è davvero bella ciao bella